PIP PIP Noi parliamo con i venti del nord, possiamo parlare con la sala operativa? Qui risponde la sala operativa del centro radio soccorso, che chiamata c'è? Stiamo in pericolo Di che pericolo si tratta? Stiamo frenando da... che uno è frenato da... da una frana Se ci vuoi dare il numero del sentiero, è sentiero 693? Non ho capito bene, sentiero 693? Sì, ho capito benissimo Ok, se ci vuoi dare le indicazioni su quale... non su quale sentiero ma su quale montagna vi trovate Monte Taleo Monte Taleo, ok. Arriviamo subito ai soccorsi Ricevuto Ricevuto Ok, noi adesso è come se abbiamo fatto una prova... una prova... centro radio soccorso con queste... con queste radio... Adesso Samuel, quello che ci ha chiamato per il finto soccorso, vi farà sentire come funziona... Vai, puoi parlare Parlo con sala operativa Parlo con sala operativa Parlo con sala operativa Rifallo un attimo Samuel Parlo con sala operativa Si parlo con sala operativa Si parla con sala operativa Ok Poi... poi... fatto questo... questa... questa prova... passiamo al... la... il soccorso... del... al soccorso del... al soccorso della... appunto della... della fase... della fase... dove dobbiamo prendere... il soccorso del... una mappa e localizzare il luogo. Fatto con una mappa ci diamo sulle ricerche del disperso. Arrivederci da tutti quanti.